Io dico no, perché la Costituzione non va cambiata, bisogna solo attuarla, dico no perché non voglio regalare l'immunità ad altre gentaglia, dico no perché le regioni devono decidere per il loro territorio, dico no perché il gasdotto che passerà in Puglia non potrà tu decidere se e come la regione, ma passerà le competenze allo Stato, dico no al potere centrale, dico no perché le associazioni e i comitati sul territorio saranno sempre più soli, non avranno persone con cui confrontarsi perché lo Stato sarà lontano dal territorio, dico semplicemente no perché questa riforma, 47 articoli, sono stati scritti da Verdini, di te, il ragazzo e l'associazione!